Venezia è un pesce. Guardala su una carta geografica. Assomiglia a una soliola colossale distesa sul fondo. Come mai questo animale prodigioso ha risalito adriatico ed è venuto a rintanarsi proprio qui? Gli altri libri sorriderebbero di quello che ti sto dicendo. Ti raccontano la nascita dal nulla, della città, la sua strepitosa fortuna commerciale e militare, la decadenza fiabe. Non è così, credimi. Venezia è sempre esistita come la vedi, o quasi. È dalla notte dei tempi che naviga. Ha toccato tutti i porti, ha strusciato addosso a tutte le rive, le banchine, gli approdi. Sulle squamele sono rimaste attaccate madreperle medio orientali, sabbia fenicia trasparente, molluschi greci, alghe bizantine. Un giorno però ha sentito tutto il gravame di queste scaglie. Le sue pinne sono diventate troppo pesanti per cusciare fra le correnti. Ha deciso di risalire una volta per tutte in una delle insenature più a nord del Mediterraneo, la più tranquilla, la più riparata, e di riposare qui. Buona lettura di Venezia è un pesce di Tiziano Scarpa, non solo una guida, da Pino Costalunga.